come lavorare su se stessi ora la domanda è abbastanza malposta nel senso che come lavorare su se stessi teoricamente dovremmo farlo sempre cioè dovrebbe essere il nostro unico vero lavoro tutto il resto dovrebbe essere fuffa cioè noi veniamo qua per fare la nostra università quindi il nostro obiettivo primario in questa vita dovrebbe essere la nostra evoluzione cioè crescere per crescere dovremmo comprenderci capire ed evolvere questo non è per niente facile anche perché chi con le poche persone che hanno avuto la sfortuna di starmi vicino per modo di dire e che sanno che cosa vuol dire scendere un po' più in profondità quando hai degli stimoli esterni che ti possono aiutare ad andare più in profondità sanno benissimo che è un effetto abbastanza tipico quello che è successo a me da decenni ormai ho quasi 50 anni non me ne sono reso conto manco io ma sono almeno 40 che sto in questa fase cioè continuo a crescere comprendere e capire e ogni volta mi emoziono mi stupisco quando scopro cose nuove e soprattutto ogni volta che scopro cose nuove di me sono talmente ovvie che la domanda che mi faccio ma cazzo non ho fatto non vederle prima eppure era tutto così palese eppure era tutto così palese da 30 anni quindi è tutto palese è tutto davanti a noi se soltanto ci impegnassimo a osservare e ascoltare questo deve diventare una forma mentis perché se il mondo circostante cerca di distrarci sempre di più c'è un motivo cioè se ci riempie di stimoli ci riempie di applicazioni di puttanate in televisione di giochi di cose di luci di suoni sempre più veloci sempre più accattivanti sempre più isterici per alcuni versi sempre più come dire adrenalinici cioè per farci stare sempre up 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 diventa come una droga è chiaro che in quel bordello mentale a cui poi si aggiungono le paure del giudizio il dare conto ai genitori il dare conto agli altri il dare conto al lavoro poi si aggiungono i debiti le insicurezze il dover mostrarsi il dover arrivare a fine mese il dover pagare questo il dover pagare quell'altro il dover apparire insomma in mezzo a tutto sto bordello ma il tempo per entrare dentro noi stessi dove sta? ed ecco perché proprio perché è lì qui dentro che troviamo la nostra divinità è proprio questo di cui hanno paura gli altri che noi facciamo perché inizieremo a ragionare noi inizieremo a scanciarci dalle nostre catene inizieremo poi a entrare in sintonia con l'universo che possiamo ottenere quello che vorremmo ma che non è quello che volevamo prima a causa dell'ego ma qualcosa che vorremmo dopo grazie alle nostre scoperte interiori solo che per iniziare a lavorare su se stessi anche se io non amo il concetto di lavoro su se stessi uno perché è un lavoro non deve essere un lavoro cioè un lavoro non è una roba piacevole ok? cioè io odio lavorare sono sempre andato contro il lavoro in assoluto perché è una delle peggiori schiavitù e me lo vai a mettere sul lavoro cioè usi la stessa parola per il lavoro su se stessi no cioè deve essere un piacere conoscersi cioè conoscere me stesso non è un lavoro è un piacere cazzo è come se uno mi dicesse oh come faccio a lavorare per andare in vacanza cioè come fa cioè il concetto di lavoro su se stessi lega una cosa sgradevole al concetto di conoscersi quindi facciamoci due domande perché deve essere sgradevole conoscermi? perché il lavoro in genere è legato alla fatica? perché mi devi legare una parola? le parole sono fondamentali nella manipolazione perché mi devi parlare di concetto di lavoro sulla scoperta di me stesso che dovrebbe essere un piacere? quindi già me lo rendi sgradevole uno me lo rendi faticoso due e soprattutto manco me paghi e non c'ho manco l'Inps e manco la previdenza sociale e che cazzo? allora non può essere un lavoro ecco e fin finì ci siamo quindi chiamiamo la scoperta di evoluzione di noi stessi come facciamo a scoprire noi stessi comprendere noi stessi godere della comprensione di noi stessi goderci i risultati della comprensione di noi stessi già inizieremo a ragionare e soprattutto come facciamo a cercare il nostro diamante interiore che ci renderà ricchi ed evoluti e liberi che già secondo me è un po' diverso rispetto a lavorare su se stesso quindi togliamo il concetto di lavoro scoperta comprensione ricerca del diamante del tesoro ricerca del tesoro nascosto la ricerca del tesoro già è più bella chiamiamo la ricerca del nostro tesoro nascosto che beh ci ricorda qualcosa dai bambini la ricerca del tesoro la sapete quando si facevano gli indovinelli trova il tesoro no? che è così perché trovare il nostro scrigno interiore quello in cui è racchiuso il nostro vero tesoro tesoro che è fatto dalla comprensione della nostra vera parte divina cioè quella senza le sovrastrutture messe dai genitori senza il giudizio messo dalla società senza le insicurezze create dal mondo senza i sensi di colpa che ci vengono installati sin dall'inizio dei tempi noi tra l'altro già nel mondo cattolico cristiano già nasciamo quei sensi di colpa perché se nasci sei già peccatore e che cazzo cioè appena nasci sei già peccatore e c'è già i debiti non è carino in più i genitori sono abituati a crescerci coi sensi di colpa perché nessuno li ha insegnati in nessun'altra maniera il mondo ci va avanti a sensi di colpa la scuola ci insegna a sensi di colpa il lavoro ci punisce a sensi di colpa e che cazzo ora noi non siamo i nostri sensi di colpa noi non siamo i nostri le nostre paure noi non siamo le nostre insicurezze noi non siamo neanche quell'immagine che gli altri vorrebbero che noi fossimo noi non siamo neanche quella persona che i nostri genitori vorrebbero che noi fossimo noi siamo un'anima immortale una scintilla divina quella che l'arcangelo Michele ci ha detto tu lo sai che sei come Dio no mo te lo spiego siamo una scintilla divina che se ne va di vita in vita in vita in vita a cercare di fare questo cioè di cercare il proprio tesoro nascosto di evolvere di comprendere di scoprire di conoscere di diventare sempre più esperto di fare esperienza questo siamo quindi se prendessimo la vita in questo senso in maniera molto più semplice non un lavoro su se stessi ma perché dovete sempre lavorare porca troia cioè pure su se stessi dovete lavorare ma reposatevi ma non sta scritto che dovete lavorare dalla mattina alla sera cioè sto sto coso che dovete sempre lavorare pure su se stessi ma che palle smettete di lavorare godetevi la vita e godetevi la scoperta di voi stessi la scoperta delle vostre connessioni la scoperta delle vostre diverse parti a volte anche la scoperta dei vostri conflitti godete gioite della scoperta dei vostri conflitti non perché ci sono ma perché li avete scoperti come un bambino che va alla scoperta che entra nel mondo per la prima volta tocca della cacca di mucca che figo e morbido che odore se la mette in bocca ed è contento comunque perché è una scoperta nuova finché la madre non gli dice non lo toccare merda e da quel momento dio sporco che cazzo quello sta a godere sta lì a scoprire una cosa nuova tu gli hai legato la scoperta a una cosa brutta ora godiamoci entriamo nella nostra testa quindi come si fa non a lavorare su noi stessi perché un voglio lavorare e non spingerò mai nessuno a lavorare in genere vi ho detto create vie rendite create automatismi esattamente come si devono creare automatismi per creare delle rendite io devo creare automatismi per entrare dentro di me scoprire cioè devo creare un'abitudine talmente forte esattamente come tante altre abitudini che possono essere deleterie dovremmo andare a creare un'abitudine fatta ho anche un po' di disciplina ma una disciplina fatta di piacere cioè io posso dedicarmi così come la gente si dedica un'ora vanno in palestra un'ora per truccarsi un'ora per far qualunque cosa perché gli piace probabilmente dovrebbe piacervi ancora di più scoprire come siete fatti scoprire il bello e il brutto che sta nella vostra testa che in realtà non è né bello né brutto sono parti di voi non si può avere paura di quello che sia dentro se stessi è dentro voi stessi a volte vedo gente che cerca di scappare da dei propri mostri che ha dentro cioè è assurdo sono qua dei mostri dovunque vai vengono con te ma poi la cosa bella è che nel momento in cui entri con l'ottica del bambino e della scoperta senza tutte quelle minchiate che ti ha messo la società quel mostro probabilmente scopri che è un giocattolino a forma di mostro che non è un vero e proprio mostro l'hai visto mostro perché c'era un'ombra più grande di lui ed era illuminato in una certa maniera ma magari un pupazzetto così ed è pure simpatico e divertente ci giochi e diventa il tuo migliore amico ma finché non entri per paura non dedichi del tempo per paura scappi per paura non entrerai mai con quell'ottica del bambino alla scoperta quindi come si fa a scoprire e non a lavorare su noi stessi ma come si fa a goderci noi stessi a scoprire noi stessi ad andare alla ricerca della nostra scintilla divina ad andare alla ricerca del nostro tesoro nascosto con con la purezza di un bambino che va alla scoperta di tutto senza dire oddio questo è brutto oddio questo è bello oddio questo sì oddio questo no sta lì non è né brutto né bello cerca di comprenderlo capiscilo rispettalo e semplicemente una volta che hai compreso tutto il parco giochi che hai nella testa dopo che hai dedicato del tempo alla tua testa dopo che hai scoperto tutto il parco giochi dopo che hai capito tutti i vari giocattoli che hai i mostri i soldatini le macchinine e tutte quelle robe lì che possono essere quel mostro che assomiglia lontanamente a mia madre quella macchinina dove dentro sembra che ci stia sfrecciando mio padre quella 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 casetta dove sembra che alla finestra sia affacciata mia nonna ecco dopo che c'hai tutto questo parco giochi il bimbo non fa altro che rispostare e ricreare e usare quei pupazzetti che sono pupazzetti all'interno della sua mente perché non sono nient'altro che questi e li può ricreare rimettere rigiocare ricreare una scena nuova dove se quel pupazzetto faceva paura perché era illuminato da un faro che gli creava un'ombra enorme pareva un mostro enorme il faretto lo gira al contrario e quel mostro da enorme diventerà ancora più piccolo e diventerà più simpatico e se proprio gli dessi ancora un po' fastidio perché c'ha quello sguardo cattivo gli mette un naso da glielo toglie al clown che passava di là glielo attacca al mostro e il mostro diventa divertente e lo mette all'interno di un circo e lo fa ballare coi salti in banchi il bambino può fare tutto il bambino crea mondi interiori immensi fino a che i grandi non gli dicono che non è così non gli dicono che quella è la sua fantasia non è non è la realtà la realtà è un'altra cosa sì la realtà è un'altra cosa ma nel nostro mondo qua dentro è tutta fantasia nel salto quantico ho spiegato bene come funziona il concetto della realtà non esiste nella nostra testa la realtà non esiste la creiamo noi c'è un'unica differenza che se entriamo noi da grandi ci portiamo dietro tutta l'immondizie che abbiamo fuori ce la portiamo dentro se entriamo da bambini con la purezza con la scoperta con la voglia non con l'idea che stiamo lavorando il bambino non sa che cazzo è il lavoro il bimbo di un anno gioca scopre ride si sporca si imbratta si spacca sfascia apre deve scoprire quella cosa lì ed ecco perché è utile quando si entra dentro entrare in regressione cioè tornare bambini tornare bambini e farlo guardare dal bambino perché il come si parla di bambino interiore bambino interiore è molto più semplice perché il bambino ha degli occhi totalmente diversi rispetto ai nostri non solo per il bambino determinate cose che per noi oggi sembrano piccole per lui erano grandi anche perché era lui piccolo quindi entrare alla scoperta di noi stessi alla scoperta di noi stessi scoprire scoprire vuol dire non giudicare vuol dire entriamo in un parco giochi entriamo in un luna park sapendo già che quelle cose che troveremo sono tutte attrazioni attrazioni mi attraggono ed è proprio così attrazioni attenzione non sto usando questa parola a caso entriamo dentro noi stessi non per lavorare su di noi ma entriamo dentro il nostro luna park nel luna park non ci sono cose reali ci sono attrazioni che possono fare paura per carità perché c'è la casa dei mostri però il bambino che entra nella casa dei mostri lo sa che è in un luna park quindi entra sapendo che gli usciranno i pupazzi che gli uscirà il ragno gigante che gli uscirà tutto quello che vorrà ma lo sa che è un luna park quindi guarda l'attrazione come un'attrazione poi andrà sulle montagne russe wow ti senti il cuore in gola ho il vomito oddio sto male sì ma tanto sai che dopo ritorni e scendi è un'attrazione a volte si è attratti dalle case dei mostri a volte si è attratti dall'adrenalina della paura a volte si è attratti dalla casa degli specchi dove ci guardiamo noi che diventiamo mille dove ci guardiamo guardiamo siamo sempre noi e ci riflettiamo e ci riflettiamo chi siamo siamo quelle mille persone che stanno dentro di noi nella casa degli specchi ce lo ricorda sono attrazioni entriamo nella nostra testa ricordando che è un luna park e diventa tutto più facile ci saranno alcune cose che ci attrarranno di più a volte quelle cose assomiglieranno a nostra madre ma è un'attrazione non è vero è un'attrazione a volte sembreranno nostro padre ma anche quella è un'attrazione a volte ci sembreremo noi enormi perché siamo nella stanza degli specchi deformanti e saremo immensi enormi ci sentiamo sto cazzo ma è un'attrazione anche quella poi andiamo nell'altra stanza e ci vediamo minuscoli come dei nani ma è un'attrazione anche quella non è che non siamo non è che siamo così piccoli non è che siamo diventati dei nani non è che non abbiamo più valore è solo uno specchio deformante sono attrazioni quindi alla risposta come entra dentro noi stessi esattamente come quando da piccoli entravamo in un luna park andiamo a goderci le attrazioni paghiamo un prezzo è vero il biglietto quando vogliamo riandarci ci andiamo ma ma quando usciamo dal luna park non ci portiamo dietro negli specchi né il ragno gigante né le montagne russe né lo specchio deformante non ci portiamo dietro niente lo lasciamo alle nostre spalle e ritorniamo a essere noi noi che sanno che lì dentro ci si può divertire con delle attrazioni attrazioni che possono fare paura e ci danno l'emozione e la paura perché può essere divertente anche quello se no non lo metterebbero in un luna park no perché dovrebbero mettere in un luna park qualcosa che dà paura perché è piacevole in alcuni casi perché dovrebbero mettere in un luna park qualcosa che ti fa sentire il cuore in gola ti dà adrenalina perché è piacevole anche quello dà emozioni allora vogliamo avere emozioni entriamo nel nostro luna park vogliamo fare la vita reale lasciamo il luna park alle spalle noi non siamo il luna park siamo tutt'altro quelle sono attrazioni prendiamo esempio ci divertiamo le lasciamo lì e torniamo nella nostra vita noi non siamo né quello piccolo del che non ha valore o che sembra un nano non siamo quello gigante che si sente sto cazzo non siamo quei mille specchi che ci rappresentano non siamo mamma non siamo papà non siamo i nonni non siamo le montagne russe non siamo i mostri non siamo nient'altro siamo noi stessi il luna park è dentro di noi ci diverte ci può servire da spunto ci può tornare utile in alcuni casi se dovesse essere funzionale ma la cosa più divertente è che quando entriamo nel luna park per la prima volta la prima cosa che facciamo qual è? non vediamo l'ora di girarcelo tutto per capire quali attrazioni ci sono quali attrazioni ci sono è questo quello che dovete fare entrate nel vostro luna park con la scoperta di un bambino che entra per la prima volta è come se per la prima volta entrate a Disney World chissà che cosa ci sarà non lo so non ho visto la mappa non so niente vado di qua cosa trovo? i mostri topolino paperino oddio qui mi sparano addosso perché c'è il western non lo so scopritelo sapete che comunque è un'attrazione è vero vi attrarrà spesso e volentieri perché vi piace dice ma mi piacciono le cose che mi fanno paura sì si chiamano attrazioni per questo l'importante è che ricordate che sono attrazioni vi attraggono ma non siete voi vi attraggono per divertirvi non per farvi del male sono attrazioni non sono vere sono nella vostra testa e servono per giocare quindi non si lavora su se stessi ci si va a divertire su se stessi è un vostro enorme luna park punto numero uno entrate con la curiosità di un bambino e scoprite tutte le attrazioni a uno a uno girateci dopo che le avete scoperte vi fate una bella mappa e vi ci divertite dentro vi ci fiondate dentro vi ci quello che fa sguazzate dentro qualunque cosa essa sia è un'attrazione l'avete fatta prendetene atto vi è piaciuta non vi è piaciuta la volete rifare non la volete rifare benissimo andate avanti scoprirete che alcune attrazioni sono utili per voi perché magari farle vi dà una certa motivazione allora potreste usarle prima di qualcosa che vi serve nella vita reale se qualcosa vi dà adrenalina bene magari avete la stanza degli applausi dove ah figo bravo tutti che vi cosano allora magari sapete che la stanza degli applausi vi aumenta l'autostima e potrebbe essere utile aumentarvi l'autostima prima di andare a un colloquio e allora prima di andare al colloquio vi fermate un attimo in macchina entrate nel vostro Luna Park entrate nella vostra stanza degli applausi vi fanno tutti gli applausi belli carichi passate per quello degli specchi dove vi fa vedere enorme vi vedete grandissimi fighi con gli applausi e andate a fare sto cazzo di colloquio e prendete il lavoro che volete ed ecco che il Luna Park viene usato in maniera funzionale ma dovete sapere che cosa è dovete sapere che cosa è è la vostra più grande risorsa non è il mondo la vostra risorsa è il vostro Luna Park la vostra risorsa lì avete tutto tutto quello che volete non si può avere paura di conoscere le vostre risorse e anche quelle che possono sembrare brutte quelle che possono sembrare terrorizzanti quelle che possono sembrare sporche quelle che possono sembrare depravate quelle che possono sembrare assurde quelle che possono sembrare matte sono risorse dovete soltanto capire come funzionano cosa vi danno e quando vi serviranno ve li andrete a fare ve li andrete a giocare ci andrete lì a giocarvi quando vi serviranno non si lavora su se stessi ci si diverte su se stessi ecco perché ci dedicherei molto più tempo rispetto alle altre cose perché è divertente è divertente quindi non lavorate su voi stessi fatevi un giro in Luna Park grazie a tutti grazie a tutti